Stefano Colantuono, bella Atalanta, bella partita, risultato non giusto, più che giusto. Beh sì, alla fine se vinci 3-0, non correndo grandissimi dischi, significa che hai fatto una partita perfetta, per cui siamo molto contenti. Una partita preparata nel miglior modo possibile e poi magari questa Atalanta dimostra sul campo il suo valore. Sì, sì, la partita l'abbiamo preparata bene come la prepariamo ogni settimana, cercando di creare problemi agli avversari di turno, poi a volte li riesci, a volte non ti riesci. Oggi ci è riuscito e direi anche abbastanza bene, faccio i complimenti alla squadra perché veramente ha interpretato alla perfezione quello che avevamo preparato. Non era facile affrontare questo Napoli che era anche un po' arrabbiato, soprattutto anche l'Atalanta, era tanto arrabbiata per come erano andate le cose a Torino. Sì, beh certo, Napoli era arrabbiato per un verso, noi per l'altro, diciamo che oggi siamo stati più arrabbiati di noi, dai. Però bella partita, bella Atalanta, insomma, grande carattere, è stato bello vederla giocare. Ma io direi che in casa, insomma, le nostre partite sono state sempre queste, al di là che ne abbiamo perse due, però insomma, del resto in casa ci siamo costruiti la nostra classifica. Riuscissimo a migliorare anche il rendimento fuori casa sarebbe molto più importante, anche se devo dire che è vero che fuori casa qualche partita l'abbiamo sbagliata clamorosamente, ma in qualcun'altra qualche fattore esterno ce l'ha un po' condizionata, non mi riferisco solo alla partita di Torino. Grazie.